Alla natura non potete dire che c'è il coronavirus. Cieli azzurri, giornate lunghe e colori vivaci cozzano inequivocabilmente con la nostra clausura forzata. Ma basta uscire per andare a fare la spesa o le poche commissioni che si possono fare per rendersi conto che la natura invece fa il suo corso. La natura non sa che invece dovrebbe aspettare che si possa tornare alla cosiddetta normalità, anche se questo è un concetto molto lontano ancora, per poterne godere dello suo spettacolo. Un esempio di questa rassicurante esplosione che invece purtroppo ci stiamo perdendo è in una delle vie del centro di Fano, forse la più rappresentativa in questo periodo, via Garibaldi, lato statale, ormai da tutti conosciuta come la via dei ciliegi, per via degli esemplari di ciliegi giapponesi che la contornano. In questo periodo i colori malva e rosa si stagliano con decisione contro il bianco delle facciate dei palazzi, regalando uno spettacolo bellissimo. I ciliegi e le altre piante da frutto e non che in questo periodo avremmo ammirato ai bordi delle strade, nei chiampi biondi di grano, sulle verdi colline, rappresentano per il nostro morale una rassicurante certezza in questo periodo di grande precarietà che avvolge le nostre giornate. Affacciamoci quindi dalle finestre anche per ammirare lo spettacolo della natura che rinasce come rinasceremo anche tutti noi.